Stefano Bettarini è un doppio ex di Sampdoria Fiorentina e intanto ti chiedo però se sei diventato un tennista perché ti vediamo qui in un circolo di tennis a Marina di Pietrasanta e dicono che tu sia diventato molto forte. Ma ora non ci allarghiamo, è due anni che mi sono avvicinato a questo sport non avendo mai giocato prima però mi consente di tenermi così in forma, in attività e mi piace e credo che comunque molti ex calciatori si avvicinano a questo sport proprio perché c'è il senso sulla palla, sui rimbalzi ci sono molte cose simili al calcio, comunque mi piace ma è una cosa per tenersi vivi. Invece per quello che riguarda la partita di domenica tra Sampdoria e Fiorentina quanto può essere delicata questa gara visto che la Fiorentina deve continuare la sua corsa Champions ce la farà a raggiungere il terzo posto, ad agganciare il Milan? Io glielo auguro anche perché il lavoro svolto fino ad oggi dalla Fiorentina e da Montella è ottimo quindi ci vuole continuità nei risultati e credo che Genova alla Sampdoria sia un risultato alla portata della Fiorentina anche perché la Sampdoria nelle ultime giornate non mi sembra molto brillante salvo il derby che proprio dopo si è un po' accontentato credo che non stia in ottima condizione mentre la Fiorentina l'ho vista giocare ottime partite ultimamente ha dato veramente prova di forza, di compattezza deve dare continuità e maturità nei risultati e quello l'occasione di domenica penso sia fondamentale Vincerele tutte a questo punto per sperare nel terzo posto? Secondo me sì, anche perché le altre non credo che regalino niente e lasciano niente al caso e credo che se ci metterà la testa e reggerà anche la condizione ce la possa fare Delio Rossi è stato il tuo allenatore alla Salernitana pensi che avrà motivato in maniera particolare i suoi giocatori visto che comunque con la Fiorentina non si è chiusa bene la sua esperienza? Conoscendo l'allenatore credo che sia un allenatore che questa settimana parlerà poco parlando poco vorrà dare il segnale ai propri ragazzi di rispondere sul campo però poi tanto sono i valori in campo che scendono gli allenatori non scende né Delio Rossi né Montella scende il gioco che hanno saputo dare alla propria squadra e quindi credo che la Fiorentina pur essendo io strasimpatizzante per la Sampdoria perché ci ho lasciato grande parte della mia carriera avendo fatto tre anni meravigliosi prevedo una Fiorentina che possa espugnare Marassi Cosa successe secondo te a Delio Rossi l'anno scorso quando fu protagonista di quella rissa che poi ha fatto il giro del mondo quella rissa con Aliaic? Sai bisogna conoscere bene io non ero lì e non conoscendo non posso dare un giudizio anche se quello che si è visto sicuramente non è stata una grande educazione da parte di Delio Rossi soprattutto per i numerosi ragazzi che vedono in televisione e prendono come esempi molti calciatori e molti allenatori ma credo che lui questo l'abbia riconosciuto abbia chiesto scusa e sono episodi che purtroppo in Italia c'è tanto stress e molta molta tensione quindi ci si può cadere l'importante è non ripetersi Il giocatore che ti ha impressionato di più nella Fiorentina? Quest'anno? Ma io sai ci sono giocatori penso che la Fiorentina in questi ultimi anni ha fatto delle scelte non so se fortunate oppure anche azzeccate non voglio togliere meriti a a coloro i quali hanno portato i giocatori come vedi il caballero che insomma ha fatto grandi cose in mezzo al campo poi Jalic io simpatizzo perché comunque è un giocatore del mio ex procuratore Sergio Berti e quindi li seguo anche con con un occhio particolare e Jovetic mi auguro che possa possa avere più continuità è stato un po' sfortunato però ha delle doti delle qualità secondo me da da grandi squadre grazie a tutti